Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial, oggi vedremo come smontare la lente della nostra Diana. Allora innanzitutto prendiamo la Diana, togliamo il tappo che potrebbe darci dei problemi e giriamola. Come vedete qui ci sono dei puntini, qui ce ne sono due, qui ce n'è uno solamente. Prendete la lente e giratela fino a far arrivare il puntino che era sotto alla parte sopra, dopodiché smontatela. Ecco fatto, adesso avremo tolto la lente e possiamo sostituirla con quella che preferiamo. Naturalmente per rimetterla dovete far combaciare i puntini e rispingerli verso il basso. Sentirete un rumorino che dice che la lente è a posto. Per questo è tutto, ci vediamo alla prossima.